Oggi disegniamo con le matite colorate Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te Oggi sul piano di lavoro facciamo sbocciare una bellissima magnolia con le matite colorate e allora spostiamoci di là e per le chiacchiere e ulteriori specificazioni ci vediamo alla fine del video ed ecco l'occorrente per il nostro disegno, temperino, matita e le varie gomme gomma siliconica, gomma pane, gomma elettrica, gomma matita e matita portamina per i pezzi di gomma o per le mine che si rompono in più l'album Fabriano è gli stabilo acqua color che io userò a secco imposto il mio disegno, io oggi disegnerò con voi una magnolia con la matita quindi a tratto leggero imposto quella che è la sagoma e la posizione della mia magnolia quindi alleggerisco il tutto con la gomma pane inizio subito a colorare cercando il tono della mia magnolia che deve essere una sorta di rosa violaceo bene, sovrappongo una serie di matite e le miscelo bene avvalendomi del colore bianco che sarà il 3 d'union di tutto il disegno la matita azzurra che prendo in mano con la punta bianca altro non è che una gomma a forma di matita mi serve per lasciare gli spazi sottili non colorati imposto tutti i petali dando i diversi gradi di coloritura andando ad aggiungere via via colore a seconda della profondità che voglio regalare ai miei petali vedete? spazio da un rosso scuro a un violetto a un ciclamino al rosa che sovrappongo e poi uniformo tutti insieme passando il bianco farò così con tutti i miei colori quando vedete che la matita mi scivola in fondo al solco tra il pollice e l'indice quindi quando non la tengo più con i colpastrelli ma la stringo in fondo è perché in quel momento io sto calcando per miscelare bene tutti i colori quindi imprimo oltre che coloritura anche pressione sul disegno per saturare il foglio ecco vedete come in questo caso bene dopodiché sulla matita bianca sappiate si può sempre ricolorare cioè la forza del colore viene fuori sulla matita bianca quindi il bianco da una parte miscele colori ma prepara il fondo per aggiungere altro colore e per quindi saturare e stratificare sempre di più il colore proprio per questo vi sto facendo vedere questo disegno per farvi vedere come si può saturare una pagina utilizzo la gomma elettrica quando ormai il colore è saturo proprio per tirare fuori ancora spazi da poter colorare e da poter stratificare adesso vado ad intensificare tutti gli scuri ma li vado ad intensificare solamente con la parte del colore non con la parte delle ombre quindi intensifico tutte le venature del petalo intensifico la parte scura del petalo ma parlo di scuro di colore di tonalizzazione poi solamente in un secondo momento aggiungerò i neri che comunque ci sono anche tra i petali così chiari adesso sfumo tutto con un bel bianco per dare appunto la giusta posizione alla miscelazione dei colori e soprattutto per far sì che poi i colori che sovrappongo rimangano ben visibili e a loro volta sfumabili tra di essi vedete ripasso i violetti di diversa intensità poi prendi il bianco e li mescolo li uso il bianco a mo' di blender anche se il bianco non è un blender perché rilascia carica di colore rilascia il bianco e infatti lo utilizzerò moltissimo per tirare fuori le luci spostando così la carica di colore lì dove voglio che sia più efficace adesso mi si è spezzata la matita bianca non perdo la mina la metto nel salvamina quindi per un po' userò al posto del bianco questa matita blu è il bianco che sto mettendo come uso il bianco uso anche i toni più chiari della stessa famiglia cioè se io devo creare un rosa di mezzo e uso un viola scuro un violetto e un rosa chiarissimo posso utilizzare il rosa chiarissimo per compattare e miscelare i colori e così posso fare con tutti i colori che voglio l'importante è miscelare sempre col tono più chiaro che sia appunto comunque della stessa famiglia vedete? metto adesso le ombre e i chiari tiro fuori i bianchi con la gomma elettrica e con la gomma matita che mi permettono una precisione maggiore e una carica di rimozione del colore molto efficace mentre immetto le ombre utilizzando un po' il nero ma anche i toni scuri della miscela di colori che ho scelto netto bene i margini immetto il nero e sfumo immetto il nero e sfumo e lo sfumo anche con il bianco che mi darà quel tono pastellato adatto alle tinte delicate che sto usando vedrete quindi un susseguirsi un balletto di matita tra le mie dita che andranno ad aggiungere tonalizzazione scuri e chiari toglierò con le gomme immetterò di nuovo col colore quando tolgo con le gomme colore comunque vado comunque a saturare il foglio immettendo una carica di bianco quindi non lascio il foglio sguarnito di colore ma vado a riempire col colore che voglio anche se è bianco e quando è quasi del tutto completa quindi ho una visione di insieme di quella che è la gettata di colore che ho sul foglio devo capire il contrasto con gli scuri di fondo quindi vado a ricavare una porzioncina piccola per adesso di quello che sarà il nero di fondo su cui si staglierà la mia corolla tiro fuori i bianchi sistemo un po' faccio quello che penso sia necessario per capire la quantità di colore abbozzo anche la parte iniziale del bocciolo quindi la parte con i toni del marrone e del verde che sfumo sempre con il bianco perché la preponderante pastello in questo disegno è sempre presente e abbozzo anche una fogliolina perché mi interessa sapere la quantità di parte colorata vividamente colorata che ha il mio disegno quindi do solamente la bozza prendo quella che è la misura della fogliolina e i toni che decido di usare anche qui come vedete sfumo sempre col bianco quindi qualunque colore io utilizzi poi cerco di blendizzarlo diciamo così con il bianco per portarlo a un tono pastello più delicato ora per capire la potenza dei miei bianchi e l'efficacia di essi devo avere un riferimento dello scuro profondo che avrà il mio disegno quindi comincio ad abbozzare quello che sarà il nero di fondo su cui si staglierà la corolla e solamente così riesco a stabilire fino a che punto posso portare avanti sia le ombre sul mio fiore senza che queste creino una profondità esagerata sia i chiari senza che questi brillino troppo oppure siano troppo sottotono quindi avendo quella macchietta nera in alto a destra io definisco un pochettino le proporzioni cromatiche del mio disegno sia sulla parte della corolla ovviamente che sulla parte del gambo e della foglia anche sul gambo procedo per stratificazioni come vedete anche un pezzettino molto piccolo lo lavoro, lo lavoro e lo rilavoro cosa faccio? metto un tono di fondo su di esso tiro fuori i bianchi poi aggiungo i neri poi metto i verdi di mezzo poi metto il nero e lo sfumo poi tiro fuori un po' le luci che sono andate totalmente perdute e metto anche i marroni freddi i marroni caldi insomma vado ad aggiungere ad aggiungere ad aggiungere finché la parte è bella satura e non diventa appunto un po' lucida sotto il passaggio della mia matita sistemo le forme che voglio sistemare e la gomma elettrica è lo strumento più efficace abbozzo i rimanenti ramoscelli che poi dovrò colorare come abbiamo visto colorare quello centrale quindi partendo da un tono di fondo omogeneo e leggero poi vado a stratificare le diverse gradazioni del marrone e lascio per adesso perché mi dedico al fondo parto da un marrone freddo perché voglio un nero in movimento quindi non un nero piatto passo al nero mi si era spezzata la punta e l'ho messa nel portamine e poi saturo e uniformo i colori miscelo più che altri colori con il bianco quindi guardate sul bianco come funzionano meglio i colori ripasso il nero e sul nero blendizzo lasciatemi passare il termine con il marrone freddo in modo che sia una stratificazione fatta già da 5 passaggi di colore e nella seconda parte del disegno non mi soffermerò a farvelo notare aggiungerò ancora colore immettendo dei toni di verde nella parte a destra del nero per tonalizzare rispetto alla parte inferiore dello sfondo aggiungo anche del grigio prendo del turchese e poi passo il bianco e il bianco lo porto anche sulla parte nera e il nero di sopra lo tiro giù sulla parte verde in modo da creare quel passaggio graduale da sopra a sotto e da sotto a sopra che non dia un confine certo al mio disegno faccio la stessa cosa anche dall'altra parte quindi porto giù il nero aggiungo i colori e tiro su anche un po' di bianco e un po' di colore per movimentare lo sfondo e per non dare uno stacco netto tra ciò che era nero quindi la parte superiore la profondità e la parte inferiore del prato nel prato insistono diversi colori voglio creare un prato mosso in secondo piano assolutamente etereo di conseguenza creo uno spaccato tra i rami che mi dia l'esempio da seguire per tutto il resto del fondo e scelgo la mia gamma colori che saranno un verde scuro un verde acqua barra turchese insomma un bianco poi dei neri poi un marrone freddo poi il bianco per assimilare il tutto e questa volta il bianco non lo passo come ho fatto sul nero in maniera compatta ma lo passo in maniera spezzata cioè non lascerò i ranghi della matita stretti ma vedete sono più larga nel passaggio questo porterà ad avere una saturazione più scomposta del foglio cioè in alcuni punti la parte sarà più compattata mentre in altri meno compattata e questo darà maggiore movimento al fondo bene una volta trovato il grado di coloritura che mi piace proseguo anche per tutto il resto del prato una volta trovata la coloritura che mi piace per la parte inferiore dello sfondo continuo anche su tutto il resto seguendo la stessa sequenza e lo stesso metodo di immissione del colore ovviamente se vorrò delle porzioni più scure aggiungerò ancora più nero come per esempio a sinistra della magnolia se vorrò rimanere più chiara nei toni rimarrò con una carica di nero inferiore adesso mi dedico al ramoscello che ho trascurato volontariamente perché se fossi andata nell'esecuzione dello sfondo ad invadere il campo del ramoscello avrei potuto adesso in seconda battuta sistemare allora parto dagli scuri e poi vado a raggiungere i chiari dopodiché aggiungo ancora gli scuri ai lati e al chiaro in mezzo gli scuri saranno nero marrone freddo un marrone caldo il chiaro sarà sempre e solitamente il bianco nelle zone in ombra e il bianco sporcato con un po' di giallo o verde acido nelle zone che sono baciate da un barlume di luce calda e nel frattempo vado a sistemare come vedete saltuariamente anche la corolla del fiore perché distaccando lo sguardo da quello che è il soggetto che state disegnando e poi riguardandolo ad occhio riposato su quel soggetto qualche minuto dopo vi accorgerete magari di cromie che non vi piacciono che non vi hanno convinto e potrete sistemarle in un secondo momento guardate il vostro disegno sempre con occhio critico e sempre come se lo guardaste con occhi nuovi quindi non pensate mai che una parte sia finita finché non è finito tutto il disegno adesso aggiungo i bianchi nel ramoscello e aggiungo le lineette di andamento del ramo do una sestata al fondo e vedete qui aggiungo il verde per muovere ulteriormente la parte superiore del fondo nero intensifico gli scuri tiro fuori adesso meglio gli scuri e i chiari dalla mia corolla vedrete molto usare il nero e vedrete moltissimo usare il bianco ma soprattutto tra qualche minuto vedrete usare la gomma elettrica quindi sistemo la tonalizzazione saturo bene i petali e e adesso tiro fuori i bianchi dai petali quindi scurendo subito dopo le parti in luce amplificando col colore le parti in luce e tirando totalmente fuori la luce passando la gomma pane e poi ripassando il bianco dopo aver passato quindi la gomma elettrica saturo bene il foglio con il bianco alla fine dopo i bianchi è finito il disegno quindi il bianco assoluto è l'ultima cosa che dovrà insistere sul vostro disegno dopodiché non maneggiatelo più firmatelo ovviamente fuori dalla composizione pittorica in basso a destra in maniera sobria e avrete finito bene avete visto non è poi così difficile riuscire ad ottenere una buona saturazione del foglio il mio intento dimostrativo in questo video non stava tanto nel soggetto di per sé ma nel mostrarvi come stratificare i colori come una matita colorata per performare per dare un colore che sia vibrante che abbia spessore che non lasci un foglio nudo e crudo debba essere lavorato più e più volte sullo stesso punto l'importanza fondamentale dei chiarissimi e degli scuri l'importanza di capire le gradazioni cromatiche attraverso i punti più scuri del nostro disegno e punti più chiari del nostro disegno oggi ho usato le matite della stabilo acqua color se ve lo state chiedendo e le ho usate a secco quindi sono delle matite molto pastose morbide che saturano molto velocemente il foglio ho usato questo genere di matita proprio per dimostrarvi come una matita così ricca in pasta possa essere lavorata e rilavorata più e più volte l'utilizzo del bianco in molti da sempre si chiedono a cosa serva il bianco all'interno della scatola dei colori bene a questo serve a miscelare a far sì che le tinte si omogenizzino tra loro a dare un trait d'union e forza e vigore al colore perché passando tra un colore e l'altro uno strato di bianco il colore successivo sarà vigoroso potente non miscelerà la sua potenza cromatica con il colore sottostante ma avrà spazio per liberarsi in tutta la sua forza e in tutta la sua sostanza cromatica quindi sperimentate con i colori e soprattutto circondatevi degli strumenti idonei a far performare bene i vostri colori bene spero che vedere sbocciare questa magnolia sia stato utile ed interessante per voi se è così lasciatemi un pollice in su e condividete questo video mi raccomando per non perdere il prossimo video creativo di arte per te attiva la campanella e seguimi anche su facebook e su instagram dove potrai trovare altri contenuti creativi per imparare divertendoti o semplicemente ampliare i tuoi orizzonti creativi da ombretta e da arte per te è tutto ci vediamo la prossima volta ciao